buonasera a tutti gli ascoltatori e i video ascoltatori del canale youtube di italia medievale questa sera è con grande piacere che posso presentare un'opera davvero preziosa il titolo è il natale nell'arte di emanuela fogliadini e françois besplug pubblicato da jacobuc da pochissimo un libro che presenta una selezione di 50 opere d'arte dalla più antica natività che risale al quarto secolo alla più recente che è del 2018 ognuna riprodotta piena pagina arricchita da un commento descrittivo che ne evidenzia il contesto storico le fonti letterarie teologiche artistiche di ispirazione interpretazione quindi un libro che visto che siamo vicinissimi alle feste natalizie si raffigura come un ottimo regalo per tutti gli appassionati d'arte non solo anche di storie anche di teologia e di ehm religione quindi io come mio solito non rubo altro tempo lascio la parola ai due autori che ci raccontano di questa opera davvero interessante prego grazie maurizio grazie italia medievale per questo bell'invito eh dovendo parlare ovviamente di eh opere d'arte in particolare di questa selezione eccezionale che abbiamo potuto operare in questo volume eh ci eh permettiamo di far vedere alcune delle opere d'arte che abbiamo scelto eh come diceva bene Maurizio il nostro approccio è stato eh cronologico eh dalla più antica o da quella che si suppone essere la più antica nel quarto secolo e poi siamo arrivati volutamente ai giorni nostri aprendo anche a eh un'arte che non necessariamente è un'arte europea anzi ci abbiamo tenuto ad aprire a un'arte extra europea asiatica africana quindi queste inculturazioni attuali del Natale della Natività di Cristo il sottotitolo che eh per questioni estetiche non è stato messo in copertina è Natale nell'arte d'oriente e d'occidente perché eh François e io eh siamo eh entrambi specialisti eh d'arte entrambi abbiamo una formazione teologica quindi abbiamo questo doppio approccio eh François eh si è concentrato nella sua ricerca in particolare sull'arte religiosa occidentale e la mia ricerca si concentra in particolare sull'arte sacra ci sarebbe da fare una distinzione tra sacro e religioso ma non è qui la sede eh in particolare bizantino ortodossa e eh il criterio che ha guidato la scelta in questo panorama che è ovviamente eh sconfinato di eh opere d'arte è eh stato un criterio di privilegio di opere che siano non solo belle esteticamente ma che siano capace di eh raccontare un mistero e eh di dire attraverso diversi supporti diverse eh estetiche attraverso la sensibilità di epoche eh che sono differenti eh di dire il mistero della eh natività di Cristo eh tra l'altro noi raccogliamo la sfida che è stata quella dei dei tanti eh pittori mosaicisti scultori che eh si sono eh cimentati nell'affrontare questo mistero perché secondo eh il cristianesimo il natale eh è coincide con l'incarnazione del figlio di Dio nella carne quindi si tratta di tenere insieme divino e umano non è sempre semplice eh le soluzioni sono diverse e allo stesso tempo anche noi abbiamo raccolto questa sfida di eh poter eh scegliere quelle che erano le opere che a nostro giudizio dicevano meglio questo eh rapporto tra divino e umano. Allora je précise en français scusate che notre choix d'image ha due criteri supplémentaires. le primo è che noi siamo convainci come teologici che il mistero quando deve essere peinti di forma conforme a sa densità deve avere come dire una certa complessità e livrere una porta d'entrata per comprendere per approfondire ce dont il s'agit a Noel. ciò vuol dire concrètement che noi abbiamo ecartato se vuole le oeuvre che sono tutto a fait touchante che sono destinati a dei enfants come dei crèches eccetera che sono un po' sentimentale io ne le dire senza mépris alcun ma che non hanno per visare un approfondimento noi siamo tutti i due teologi e non bisogna non ci s'envolgere, noi aimiamo approfondire il sens della natività. Forza giustamente ricorda che uno dei criteri che ci ha guidato è stato anche dovuto appunto alla nostra formazione teologica scegliere delle opere d'arte che dicano questa questo mistero teologico e quindi in questo senso abbiamo evitato tutte quelle immagini anche toccanti che sovente si rivolgono ai bambini o che anche hanno una certa familiarità come i presepi che sono assolutamente straordinari alcuni da guardare ma che riescono a dire meno dell'opera d'arte in senso stretto il mistero della nascita. e la seconda precisione che apporte che ha guidato il nostro il nostro corso è la volontà di non non se limita a una periodo, non a una regione ma di tentare anche una approccia pluricontinente, multicontinente di questo mistero che ha è stato annoncato per dei missionari a partir della grande expansion missionaria europea del XVIe secolo una volta l'amirica scuverta se volete allora c'è ovviamente un po' acrobatica ma c'è passionante di se domandere come la natività è stata peinta con i moyens locaux, le personnalità, i chevei, i habits, i villages dei paesi dove l'Evangile ha été preciato, reçu e crue allora noi abbiamo cominciato questo lavoro d'ouverture che ci piace di più e dice il secondo criterio che ci ha guidato è stato quello di non volerci limitare né a un periodo né a un'area geografica ma di voler davvero allargare l'orizzonte all'arte extraeuropea in particolare nei paesi che tradizionalmente ti chiamano paesi di missione ma che ormai hanno sviluppato una propria arte inculturata e è chiaro che la scelta è un po' acrobatica anche perché non è sempre semplice riuscire a recuperare delle belle immagini che siano date anche alla stampa di questi paesi però è proprio la volontà di aprire il ventaglio se mi posso permettere perché gli autori magari si dicono due storici dell'arte e due teologi che cosa hanno combinato questi due in realtà il linguaggio questo è importante è un linguaggio preciso perché abbiamo una formazione entrambi accademica ma che vuole essere chiaro che vuole arrivare a tutti non c'è della devozione non c'è del pietismo qui è un lavoro scientifico quello che si presenta ma con un respiro ampio perché appunto le immagini come diceva bene Maurizio molti sono a piena pagina ci sono anche dei dettagli che aiutano a seguire bene la spiegazione e davvero vuole essere un libro bello che si legge volentieri e che si legge capendo bene le varie le varie immagini che sono spiegate allo stesso tempo avendo qualche spunto in più perché gli autori aiutano ad approfondire alcuni dettagli a contestualizzare la storia questo ci tengo a dirlo perché per chi non ci conosce magari non sa bene come qual è la nostra prosa inizio con questa che è la prima immagine con cui inizia il volume che è un basso rilievo di un sarcofago ci fa capire qualcosa di interessante la natività che per il cristianesimo è il mistero centrale con la Pasqua attese dei secoli per essere raffigurata secondo quegli schemi a cui siamo abituati proprio perché inizialmente in particolare sui sarcofagi si raffigurò la scena della natività con l'adorazione dei magi prima della natività quel concetto di adorazione dei magi ossia della valorizzazione della nascita come teofania che significa manifestazione del mistero è sottolineato e tra l'altro qui c'è un'iconografia interessante che ritorna nelle scene dell'adorazione dei magi noi che siamo così abituati in particolare in occidente e ci arriveremo rapidamente perché oggi abbiamo preferito valorizzare le immagini medievali quindi sul rinascimento ci fermeremo ma faremo poi un salto all'attualità siamo così abituati a vedere sovente Maria Giuseppe inginocchiate o comunque attorno al Cristo che questa immagine ci deve un po' stupire perché se guardate abbiamo nel registro in alto superiore il Cristo in questa mangiatoia la Vergine c'è Maria che è seduta a lato e lo vedremo nello schema rapidissimo vi farò vedere qualche adorazione dei magi dove appunto c'è Maria che è sempre seduta con Cristo accanto con Cristo sulle ginocchia perché i magi arrivano qui li vediamo sotto con questo tipico berretto che si chiama il berretto frigio che si agitano in un certo senso nell'indicare la mangiatoia e sul lato adesso nel registro superiore non abbiamo certo Giuseppe che non sarebbe stato vestito in questo modo anche questo è un tema interessante Giuseppe nell'arte paleocristiana sovente assente ma abbiamo un pastore quindi rivelazione nel momento in cui Cristo nasce ai pastori e ai magi come raccontano i Vangeli canonici vediamo un altro sarcofago questo mi piaceva perché da un lato rispetto a questo che vi dicevo ossia la Vergine in trono con il bambino già un po' cresciuto sulle ginocchia e poi perché questi arrivano con dei dromedari che ci ricordano proprio questa idea dei magi che arrivano da lontano un sarcofago conservato ai musei vaticani del quarto secolo e questo schema lo ritroviamo anche nel quarto secolo sulla porta linea di Santa Sabina a Roma dove in questa porta dove sono conservate solo una parte delle scene originali abbiamo tutto il mistero della vita di Cristo e qui tre magi che arrivano per adorare il Cristo e la Vergine e seduti su questo trono con dei gradini che vogliono indicare la loro superiorità rispetto ai tre che arrivano questa scena la ritroviamo anche nei grandi impianti musivi siamo a Santa Maria Maggiore è eccezionale questo programma iconografico musivo nell'arco trionfale realizzato subito dopo il concilio di Efeso 431 guardate che la Maria la Vergine è abbigliata e raffigurata come una principessa bizantina in alto avete la scena dell'annunciazione che è assolutamente eccezionale perché non avete solo Gabriele avete uno stuolo di angeli che la circonda e in basso in questa scena dell'adorazione di questi tre magi che se avete un po' l'occhio attento vi ricorderanno già anticipano immagini che poi rivedremo a Santa Pollinare Nuovo e il Cristo seduto su questo trono che è straordinario gemmato prezioso ma che lui è così piccolo che non riesce neanche ad appoggiare i piedi sul gradino e sul suppedaneum e sulla sua destra la Vergine che è identica alla Vergine nella scena superiore sulla sinistra questa donna che potrebbe trarre in inganno perché molti la confondono con Maria e in realtà è la Sibilla o una Sibilla cumana che ci dice la rivelazione di Cristo è per tutti per il mondo ebraico ma anche per il mondo della sapienza che viene da lontano della sapienza pagana e ultima immagine che non c'è nel libro ma per farvi capire quanta importanza ha inizialmente l'adorazione dei magi è questo mosaico eccezionale del settimo secolo conservato nell'oratorio di Giovanni VII a Santa Maria Antiqua dove purtroppo vedete solo uno dei magi che offre un dono ma lo schema è uguale ossia Maria con il Cristo in braccio sulle gambe che si volgono un po' particolare questo profilo nell'arte bizantina che si volgono verso i magi ma tornando a noi e tornando ai grandi capolavori che l'Italia conserva indubbiamente la tradizione apocrifa e in particolare il protovangelo di Giacomo hanno avuto un ruolo centrale nella costruzione della iconografia della natività e questa scena che avevamo già raffigurata a Santa Maria Antiqua è piuttosto eccezionale e anche rara poiché qui viene letteralmente raffigurato il momento in cui una delle due elevatrici avvisata da Giuseppe che Maria ha partorito e rimanendo vergine dice non ci credo e voglio verificare letteralmente voglio mettere la mia mano nella sua natura se fate attenzione vedete Maria sdraiata anche questo è piuttosto raro come elemento ha appena partorito ha le ginocchia leggeramente aperte e sta guardando in direzione di una donna che potete vedere sulla sinistra con il braccio mentre sta mettendo la sua mano nella natura della Vergine e ritirerà secondo il racconto apocrifo ritirerà la mano eh che eh è paralizzata e da quel momento in poi crederà questo affresco molti di voi conosceranno bene la l'eccezionalità di Castelseprio a a freschi di stile bizantino in territorio lungobardo che finalmente dopo anni di dibattiti tali studiosi che sono riusciti ad adattarli eh dal sesto al dodicesimo eh adesso abbiamo delle prove al carbonio quattordici che ci dicono verosimilmente la chiesa del decimo gli affreschi dell'undicesimo secolo questo affresco ci testimonia verosimilmente una perplessità di questa comunità cristiana che probabilmente faticava a credere alla verginità in parto perché il cristianesimo sottolinea la verginità prima durante eh durante e dopo il parto quindi questa verginità in parto che forse faceva dei problemi a questa comunità cristiana questo affresco per dire attenzione bisogna credere a questo mistero diversamente si eh rischia di essere tra virgolette puniti eh come eh la levatrice che non ha creduto e questo è davvero uno dei grandi cicli dell'infanzia di Cristo da ehm da studiare da conoscere da andare a visitare quando si potrà e Castelsepio è davvero un eh tesoro nel volume abbiamo volutamente dato spazio ai programmi iconografici ossia al tema dell'antività di Cristo nei grandi programmi iconografici perché una delle eh tra virgolette degli errori se mi posso permettere che talvolta si fa è valorizzare tanto i quadri e nel mondo orientale le icone con eh la difficoltà talvolta di non sapere da dove provengono questi quadri e talvolta anche dove erano collocate le icone se erano state realizzate con una devozione personale o per una chiesa e dunque di perdere un po' il legame con la liturgia con la teologia con il mistero al contrario laddove un mosaico come questo Osius Lucas si trova all'interno di un grande monastero del Quattolicon la chiesa del monastero di Osius Lucas siamo in Grecia XI secolo il luogo fisico a livello dell'architettura dove è stato collocato quindi all'interno di un ciclo di grandi feste ci dice meglio il legame con la liturgia e qui come altrove troviamo lo schema classico bizantino che si differenzierà da quello che sarà lo schema più occidentale e che come vedremo tra qualche istante Giotto inizia a rivoluzionare la scena è piuttosto tra virgolette standard perché l'iconografia orientale deve dire la teologia dunque avete al centro in questa grotta scura la Vergine tre stelle che ci ricorda la Vergine prima durante e dopo il parto il Cristo in questa mangiatoia che però se guardate qui assomiglia è in muratura quindi c'è il rimando alla tra le bende e la muratura c'è il rimando al fatto che la natività è una piccola Pasqua quindi Cristo si nasce ma il suo destino è quello della passione della morte della risurrezione e poi tipicamente l'oriente mette insieme momenti temporali a livello cronologico diversi quindi avete i magi che arrivano sulla sinistra gli angeli che contemplano la scena sulla destra gli angeli che annunciano i pastori e in basso il bagno del bambino perché c'è questa stella che voi notate subito in alto che con i suoi raggi illumina il Cristo quindi si sottolinea che il Cristo si incarna per opera dello Spirito Santo e allo stesso tempo il bagno un elemento un'astuzia molto interessante dell'iconografia perché ci dice che il Cristo si è davvero fatto uomo e questo schema lo ritroviamo anche nel mosaico della cappella palatina a Palermo non ci soffermiamo ma due elementi vorrei fare notare intanto non possiamo non essere attirati un po' dallo sguardo di Giuseppe che appunto anche nel volume abbiamo poi messo il dettaglio che guarda noi quasi di solito è dubbioso è preoccupato qui quasi sfida chi guarda a contemplare la scena a fidarsi o meno in un certo senso e poi l'altro dettaglio i magi arrivano a cavallo nella parte sulla sinistra e a destra offrono dei doni ma che doni offrono offrono qui delle dei recipienti con delle vuova e qui questo legame con la anastasi ossia con la resurrezione che già qui nella cappella palatina si suggerisce poi abbiamo ci teniamo a farvi vedere questa cappella eccezionale che è appena stata riaperta al pubblico dopo una decina d'anni di restauro e questa è una visione di insieme per dirvi la bellezza della cappella di San Biagio a San Vito dei Normanni e ringraziamo il fotografo Giuseppe Sacco che ci ha dato le foto l'architetto lungo che ha cercato le foto fino all'ultimo momento perché ci tenevamo a mostrare questo incarnarsi bizantino in terra pugliese siamo appunto tra Salento e Gargano e questo programma assolutamente eccezionale se la natività qui vedete la totalità della scena è un po' rovinata nonostante appunto il ricchissimo restauro abbiamo messo anche in quarta di copertina questa vergine bellissima perché ha già questo viso così dolce che in un certo senso apre poi alla bellezza dei visi del rinascimento che si inizia a girare sempre frontale ma inizia a girarsi a creare una sorta di movimento e con un fazzoletto in mano quindi un simbolo anche che richiama la passione di Cristo e che contempla le donne che fanno il bagno al bambino ed è congiotto che questo schema bizantino inizia a essere un po' rinascimento inizia a rinascimento inizia a rinascimento inizia a rinascimento Il cambiamento consiste d'abord nel rapporto corporel affectue tra la madre e l'enfante che in alcune delle immagini che avevamo visto il poteva se sviluppo di una forma così tenda con le due braci della mamma che prende l'enfante in questi tissuti serrati che hanno l'air effettivamente di annonciare la depuizione mortale del Cristo avant la risurrezione e che sono un presagio in una certa maniera e l'échange anche dei guardi c'è a dire il guardo che Giotto ha donato a la Vierge è ètono d'attentione e l'enfante lui rispondre e l'enfante lui rispondre io credo che c'è la prima volta in l'Historia dell'Arte che c'è la prima volta in l'Historia dell'Arte che c'è il y a entre Marie e Jésus un èchange di guardi così intense e convaincante il ne fa pas di tutto artificiale in questa storia e quindi Giotto effettivamente è un dei peinti qui va amorcer un espace di grande changement in l'esprimazione della contemplazione del ministro della natività con effettivamente una moindre place offerte aux femmes che donano il bain che sono absente in questa rappresentazione Joseph è sempre là un po' songeur la mano contro la tête le berger è anche qui sono là ma non non ne bougerà ici il n'y a pas de mage il y a toujours le bœuf e l'âne ma l'espace è conçu altriment e di una certa maniera on voit qu'il s'unifica auprès d'un espace physique qui devient comment dire plus viable plus crédible que symbolique vous voyez ici c'est le début nous sommes au début du XIVe siècle dans une église absolument surprenante où Giotto a peint pendant 2 ans en a temps record d'ailleurs je ne sais combien de mètres carrés de mur qui raconte au fond toute l'histoire du salut depuis le conseil de la rédemption que Dieu préside en écoutant les vertus les anges pour savoir qu'est-ce qu'il doit décider de l'incarnation jusqu'au jugement dernier qui est sur le mur d'en face vous voyez et la nativité du Christ arrive ici comme un des points décisifs de cette histoire du salut à la même époque je le note aussi au passage l'église fantastique de Cora sur laquelle Emanuela a fait sa thèse de doctorat à Rome a la même complexité mais évidemment rendue avec d'autres moyens ici nous sommes dans la peinture murale à Cora on est dans la mosaïque et elle va nous en parler dans un moment je lui laisse la parole si si riassume rapidamente i grandi cambiamenti che Giotto introduce François giustamente faceva notare la tenerezza che si instaura tra la madre e il figlio e lo sguardo lui dice che c'è la prima volta nella storia dell'arte cristiana che c'è uno sguardo così intenso tra la madre e il figlio e il fatto il fatto che Giotto tolga questi elementi i magi il bagno del bambino quindi tolga tutta questa simbolica per concentrarsi proprio su questa scena familiare della nascita di Cristo rimangono alcuni elementi appunto Giuseppe in basso che è sempre molto riflessivo quasi addormentato e poi questi due pastori che iniziano ad essere raffigurati di spalle quindi anche questa è una rivoluzione che Giotto introduce in questa cappella che va appunto dal momento in cui Dio dà il comando all'angelo Gabriele al giudizio universale e la natività è proprio un punto di passaggio giustamente François faceva notare rapido passaggio che proprio in quegli anni la cappella degli Scovini è dipinta tra il 1300 1302 1305 massimo dipende dalle fonti e proprio in quegli anni tra il 1313 e il 1315 a Cora sappiamo bene quali erano i rapporti tra Costantinopoli e Venezia dunque Padova apparteneva a era legata a Venezia sappiamo bene quanto forti fossero i rapporti a Cora abbiamo ancora invece questo schema tipicamente bizantino quasi un po' tra virgolette irrigidito dal mosaico ci tengo a parlare di Cora non solo perché è una chiesa eccezionale con un programma iconografico straordinario ma anche a causa degli avvenimenti drammatici recenti Cora come Hagia Sophia è stata trasformata in moschea quindi riaperta al culto islamico ma a differenza di Hagia Sophia che ha avuto negli ultimi secoli pochi mosaici presenti almeno nella parte dove dedicata alla preghiera a Cora invece i mosaici sono tantissimi e sono stati comunque tutti ricoperti da delle tende per il momento delle tende ringraziamo però chiaramente si perde la bellezza di questo patrimonio in Cora è davvero l'ultimo grande tesoro di Bisanzio perché è totalmente ricoperta di mosaici e di affresche qui vi dicevo si irrigidisce quasi lo schema iniziando a sottolineare che la Vergine si gira non guarda più il Cristo lo vedremo in tante icone che sono anche mostrate appunto nel volume perché lei è la prima che medita su questo mistero e questa idea la ritroviamo anche nei programmi medievali serbi che abbiamo ampiamente onorato e qui vi mostro semplicemente due affreschi di chiese totalmente affrescate dal pavimento al soffitto con una serie di programmi ricchissimi sulla sinistra Vergine per i Blektos 1295 siamo a Orid sulla destra abbiamo la chiesa di Marco gli schemi sono simili vi faccio notare questi angeli a cavallo con dei vestiti tipicamente da dignitari bizantini che conducono i magi alla grotta assolutamente eccezionali anche solo come abbigliamento e sarà però nella Serbia medievale del quattordicesimo secolo questo affresco è nella chiesa dei santi giochino e danno la chiesa del re Milutin siamo appunto in Serbia che inizierà a instaurarsi l'idea di una tenerezza vi ho messo vi abbiamo messo l'immagine il dettaglio della Vergine che pone la sua guancia su quella del Cristo e che ritroveremo eh ampiamente nelle immagini della deposizione e in quelle icone che si chiamano icone della Vergine della tenerezza dove c'è questo gioco di eh carezza di abbraccio e eh di guancia appoggiata l'uno sull'altra che inizia a introdurci questa idea di tenerezza concludiamo questa carrellata eh con uno dei eh più grandi capolavori della Serbia medievale il monastero di Visocchi deceni più di mille affreschi venticinque programmi iconografici qualcosa di eccezionale realizzato da un architetto probabilmente del terzo ordine francescano che quindi occidentale che eh realizza questa chiesa in puro stile romanico quindi non ha le classiche cupole bizantine lui innova siamo in pieno eh cuore eh delle regioni di Kosovo e Metocchia e all'interno eh c'è questo programma eh di affreschi ori ortodossi ma con già una serie di eh di piccoli accenni e di piccole sfumature che occhieggiano all'occidente se guardate qui ah no scusate se guardate qui la vergine si gira in un modo molto strano quasi a voler abbracciare il Cristo a una sorta di eco eh di Giotto benché eh non raggiunga eh quello sguardo intenso che invece Giotto ha voluto eh sostenere questa carrellata la chiudiamo con eh Filippo Lippi che cambia totalmente il registro è un'opera eccezionale e allo stesso tempo qui vediamo bene la rottura con lo schema precedente prima prima di tutto si chiama proprio adorazione del bambino perché la vergine è inginocchiata e adora questo bambino nudo eh c'è un dettaglio nel libro eh del bambino tra i gigli tra le rose quindi tutta una serie anche di rimandi simbolici eh con dietro Giovanni Battista che eh indubbiamente è molto più grande dei sei mesi che indicano i Vangeli rispetto a eh Gesù eh e se guardate anche come schema non c'è più la grotta non c'è più una cenna a Betlemme eh c'è una foresta c'è una scala che che dice eh l'ascesa e un dio il padre che inizia a essere raffigurato come un anziano anche questo è una rivoluzione eh che talvolta non si sottolinea perché siamo così abituati nell'arte occidentale a vederlo un po' anziano ma anche questa è una rivoluzione perché nel medioevo non si raffigura Dio padre se non con i tratti di Cristo che dona la colomba dello Spirito Santo e addirittura la presenza di un monaco si discute sul sulla sua identità ma lo schema cambia totalmente. In ultima battuta facciamo un po' un salto temporale per per mostrarvi qualche immagine che cambia proprio eh stile perché siamo ovviamente nella contemporaneità una contemporaneità che eh rielabora il mistero cercando di dire piuttosto la prossimità ossia la familiarità la vicinanza della Cristo che nasce a colui che guarda quindi la sfida di questi artisti che eh nel eh dover raccontare un dio che si fa uomo lo dicono con la sensibilità più contemporanea e quindi dicono più questa vicinanza rispetto alla divinità. Ce peintre s'appelle Arkabas il è mort in 2018 après avoir peint quantità d'oeuvres religieuse è un'esercizio di più sempre molto più sempre molto più sempre molto più in particolare una piccola iglese che io vi recommendi molto durante i vostri passaggi di vacanza una volta passata il confinamento della pandemia l'allervo è l'église Saint-Ugde-Chartreuse nel massimo della Chartreuse près di Grenoble juste a côté della grande Chartreuse e dove il ha decorato questa iglesia durante 20 anni di 110 oeuvres di lui qui è ora al palazzo archi-episcopale di Malines che lui ha stato commandato da l'archevacca di Lieu che è diventato un amico e che rappresenta un Joseph suciato di protegere il couple di Maria e di l'enfante tendremente in una stella stessa che non è comunque non banale sull'ioi tutto a fatto paisile dell'Arne e di Boeuf e il guarda abbastanza amusante di tre angeli che non le dernier è un po' inspirato di Raphael e Joseph apporte una bugia il è obiettivo di protegere la flamme perché c'è il ha dei couron d'air tutto questo è tutto a la fine touchante e realistico e c'è allora ce verso la peintura occidentale parla di Aracabas che rielabora come molti artisti contemporanei con molta libertà focalizzandosi da un lato sulla fiuga di Giuseppe che con una candela che protegge per non disturbare la verge e il bambino li custodisce li sorveglia e la verge e il bambino avvolti nella stessa coperta che appunto non si era mai visto con l'asine il bue se riuscite a vedere qui abbiamo la possibilità di vedere i dettagli che si vede bene il loro fiato che li scalda e questi tre angeli che ammiccano un po' alla Madonna Sistina di Raffaello e poi come dicevamo all'inizio abbiamo dato un po' di spazio anche ai paesi extraeuropei qui vi facciamo vedere solo due esempi i chi un artista cinese rivoluzionario che è convinto di fede luterana protestante che è convinto che bisogna dire in modo diverso rispetto all'arte importata dall'occidente la natività e i temi cristiani ai cristiani cinesi e qui vedete questa vergine che si che si coccola il figlio mentre Giuseppe dietro illumina l'arrivo appunto dei pastori e un angelo che sopraplana sui pastori che lo guardano quindi molto colorata con uno stile assolutamente nuovo che evidentemente riesce a parlare a culture che non hanno una tradizione iconografica come quella occidentale io aggiungo una cosa molto più touchante che i chi è un chino che, essendo considerato come un intellettuale ha stato consignato in una ferma per sognare il suo intellettualismo nel tempo di Mao Zedong e il ha stato condamnato a peinti io ne sai combien di portrait di Mao Zedong e fino al giorno il ha trovato un'icone che l'ha bouleversata e il ha fatto pensato a peinti dei scènes religieuses e sa conviction è che il mondo chino cristiano, evangelizzato deve tutto rinventer con i sui i chi peinti sono esclusivamente dei tableaux carri con dei teinti estremamente vivi e dei schemi di composizione che non devono avere la persona sape lui ebbene poi vi mostriamo anche questo acquarello su carta grattata di Mulan Bah siamo in Congo una assoluta inculturazione di questa natività con dei modelli propri alla terra africana che ci dice bene appunto questo lavoro di questi artisti nel riuscire a trasmettere ai loro contemporanei questo mistero e chiudiamo con l'ultima immagine che abbiamo scelto volutamente un'immagine forte innovativa e che apparentemente può essere provocante ma in realtà è molto delicata provocante perché non se l'ha mai vista una natività che è raffigurata tra le zampe dell'asino e allo stesso tempo dedicata perché François Xavier de Boissoudy è un artista assolutamente contemporaneo che ha dipinto quest'opera nel 2017 dice il mistero della nascita con Maria che partorisce per terra quindi nella precarietà assoluta di questo viaggio che era previsto ma non ci si attendeva che tutto questo sarebbe arrivato così rapidamente e Giuseppe che è presente quindi quest'opera che si libera dai colori ma che si concentra sul bianco e nero e che è una sorta di zoom sul mistero della natività con queste immagini vi auguriamo di leggere il libro di sfogliare poi bene i dettagli vi auguriamo anche buone feste e ringraziamo ancora una volta Italia Medievale per questa bella occasione di condivisione nell'attesa di vedervi se possibile di persona a breve beh che dire sono io che ringrazio voi per aver accettato il nostro invito e per averci illustrato questo volume che sicuramente è da avere tra le mani perché nessun video può rendere il piacere di sfogliare di osservare queste immagini di vederne i colori i dettagli particolari ma che voi comunque avete narrato benissimo e che è quanto di più attuale ci possa essere visto che mancano pochissimi giorni a Natale esatto ringrazio ancora tantissimo Emanuela Fogliadini François mi limito al nome perché il cognome non riuscirò mai a ricordare grazie a voi poi l'Alzheimer fa brutti scherzi ricordo a tutti i nostri videoascoltatori di seguirci sempre sul sito di Italia Medievale che è www.italiamedievale.org dove potete trovare tutte le videopresentazioni che abbiamo realizzato in questo purtroppo lunghissimo anno di chiusure e auguro a tutti buone feste un felicissimo 2021 nella speranza che si torni quanto prima alla normalità grazie ancora a voi due grazie e buon Natale ai tutti grazie grazie a tutti Grazie a tutti.